Chiarire idee, chiarire idee, pulire testa, lavare faccia, lavare lavandino, acqua, acqua, specchio, immagine, somiglianza. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e dà dominio su tutta la terra. Terra, terra, suolo, humus, paese, patria, confini, frontiere, barriere, linee di demarcazione, immigrazione, confusione, paura, disperazione. Avvia processo di sopravvivenza, respiri, mangi, dormi. Avvia processo di adattamento, osservi, ascolti, ti arrangi. Avvia processo di integrazione, parli, giochi, studi, partecipi, ami. Avvia processo di appartenenza, soggetto ibrido non riconosciuto, italiano imperfetto, appartenenza respinta, appartenenza respinta. Riavvia processo di appartenenza, lavare faccia, lavare, lavare, lavandino, acqua, 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 specchio, immagine, somiglianza. Processo di riconoscimento completato, rilevata compatibilità al 90%. Tu hai lo stesso sorriso di tuo padre. Appartenenza approvata. Appartenenza approvata. Lo stesso sorriso di mio padre. Lo stesso sorriso di mio padre. Errore, errore, ci deve essere un errore. Io non appartengo ad un sorriso che parla di debolezza, ad un sorriso che nasconde imbarazzo, ad un sorriso che non sa dire le cose, che non sa difendersi, che non esige rispetto. Questo non è il mio volto. Io non sarò lo straniero felice, lo straniero compiacente, lo straniero rimesso. Io non sono la vostra scimmia sorridente. Buonasera a tutti e a tutte. Quello che avete appena sentito è un breve estratto da Il sorriso della scimmia, un testo teatrale che ho scritto un paio di anni fa e che parla del diritto alla cittadinanza e della crisi identitaria dei giovani con un background migratorio che oggi sono di fatto italiani ma che non vengono riconosciuti come tali dallo Stato. Mi presento brevemente, mi chiamo Nalini Vidula Mutusami e sono originaria dell'isola di Maurizios, ma vivo in Italia da più di una trentina di anni ormai. Come avete intuito, io mi occupo di teatro, ma ci tengo a precisarlo, non sono un'attrice, anche se una parte di me ha coltivato a lungo il sogno di diventarlo. Così come ho sognato di diventare una scrittrice, un avvocato, un chimico, un'ambasciatrice. Ed è proprio di sogni che vorrei parlarvi questo pomeriggio, di sogni, di aspirazioni e della loro realizzazione. Come ogni adolescente o giovane, io ho passato un periodo della mia vita a sognare del mio futuro, ma erano spesso sogni confusi, un po' perché mi sentivo attratta da più cose, un po' perché non sapevo bene come muovermi per realizzare i miei sogni e un po' perché non credevo di poterli realizzare. Mi sentivo infatti qui in Italia come un pesce, non fuori dall'acqua, ma in un oceano troppo grande dove nuotare. Continuavo di fatti a muovermi senza direzione e purtroppo non c'era nessuno capace di guidarmi, neanche in famiglia, perché ovviamente qui in Italia eravamo tutti stranieri e tutti noi soffrivamo dello stesso senso di smarrimento. Per fortuna che oggi le cose sono cambiate per me. Oggi sono sempre un pesce, però capace di orientarsi in questo oceano che rimane comunque vasto. Oggi infatti dei tanti sogni che avevo sono riuscita a realizzarne un paio. Mi occupo di teatro, non faccio l'attrice, ma sono una drammaturga, cioè scrivo seguendo il mio sogno di diventare scrittrice per il teatro. In poche parole scrivo testi che poi vengono messi in scena dagli attori, ma questa è ovviamente già la fine della storia. Quello che voglio raccontarvi invece è il mio esordio nel mondo teatrale, che non è stato né semplice né scontato. Sapete, io fino a sei anni fa facevo tutto un altro mestiere, un mestiere che non avevo sognato, ma che per una serie di contingenze sembrava la scelta più giusta. Insegnavo all'università materie culturali e letterarie in cui affrontavo problemi legati alla migrazione e all'integrazione. Socialmente si può dire che occupavo una posizione di rilievo, eppure sentivo che c'era qualcosa che mi mancava, che non mi bastava parlare di quelle problematiche agli studenti, ma che avevo bisogno di fare qualcosa di più concreto, di ancora più attivo sul piano sociale. Eppure, per quanto fossi inserita socialmente, non sapevo bene cosa fare di preciso. L'occasione infatti mi è piombata letteralmente addosso, per caso, così. Sono stata invitata da un amico a vedere le prove di uno spettacolo di un gruppo di attori rom. Vedere un gruppo di attori rom, categoria che sappiamo bene essere relegata in basso nella scala sociale, fare teatro, mi ha catapultato letteralmente in un'altra direzione. Io, banalmente, non sapevo di poter fare teatro. Per me il teatro, almeno quello che avevo visto fino ad allora, era un teatro fatto da italiani per gli italiani. Intendo ovviamente italiani bianchi, e scusate questa differenza, perché oggi l'Italia ha cambiato colore, soprattutto negli ultimi vent'anni. Quel gruppo di attori rom, invece, ha rivoluzionato la mia visione e mi sono detta, un po' miseramente, un po' meschinamente, subito, che se loro potevano fare teatro, anche io avrei potuto farlo. Per questo credo che sia molto importante che oggi ci sia una maggiore attenzione sulle figure che appartengono non alle cosiddette minoranze etniche, termine che secondo me ci penalizza, ma sulle persone che, come noi, appartengono a una maggioranza globale. Se riusciamo, infatti, ad amplificare l'immagine di queste persone, potremmo far vedere concretamente a chi ancora non solo sta ai margini della società e si sente disorientato, ma anche a chi di fatto, come me, fa parte di questa società, ma ancora pensa che certi luoghi siano luoghi esclusivamente fatti dagli italiani per gli italiani, quelli bianchi ovviamente, perché questo a volte è vedere e potere, così lo è stato per me. Infatti da quel momento ho cominciato a pensare a come potevo fare teatro anch'io e dopo diversi percorsi teatrali ho trovato la mia strada. Non sono diventata un'attrice perché non ci si improvvisa attrice, ma serve tanta disciplina e lavoro fisico e il mio corpo si rifiutava di mettersi in gioco ed esporsi. Sapete, ad una certa età è difficile di mettersi tanto in discussione. Così ho scelto la scrittura, ho scelto di diventare una drammaturga. Certo, anche quello non è possibile improvvisarlo, serve un impegno costante e anche una grande posizione a sedersi a lungo davanti al computer, ma il mio corpo in questo caso non si è lamentato. Da lì ho iniziato a scrivere diversi testi con cui ho vinto alcuni bandi, tra cui un progetto europeo. Faccio infatti parte, come autrice italiana, e questo mi piace tanto ribadirlo, autrice italiana, di una rete europea di drammaturghi. Ma vediamo adesso al mio impegno nel mondo teatrale. Come drammaturga ho scelto di scrivere per il teatro per tre ragioni che hanno a che fare con l'attore, il testo e il pubblico. Insomma, i tre elementi fondamentali attorno a cui ruota il teatro. I primi due motivi sono legati al testo e all'attore. Per me, personalmente, innanzitutto, vedere la parola scritta, prendere vita attraverso la voce e il corpo dell'attore sul palco scenico, è veramente entusiasmante. Però ho notato che, diversamente da altri ambienti, come quello letterario, canoro o del cinema, in Italia c'è una carenza di rappresentazione teatrale di certe categorie sociali, quali i migranti, i giovani con background migratorio. Insomma, di tutto quello che ho definito prima come la maggioranza globale. Ed anche se c'è questa rappresentazione, purtroppo, spesso, è piena di stereotipi, perché scritta da chi non ha un'esperienza diretta e intima di certe situazioni. Conseguenza di tutto questo è che oggi ci sono tanti giovani e bravi attori, attrici, di questa maggioranza globale, che vengono ingaggiati per portare in scena dei personaggi stereotipati. E sinceramente, io mi ero stancata di vedere rappresentare in scena questi stereotipi, stanca di vedere attori appartenenti a livello somatico ad un certo gruppo etnico, fare la parte del cameriere filippino o della prostituta nigeriana, o ancora del clandestino o del migrante che stenta a parlare italiano. Dunque, noi vogliono esserci questi ruoli, attenzione, ma non possono essere più gli unici, perché restituiscono una visione molto limitata di noi, della nostra società e non sono rappresentativi di questa nuova Italia fatta di una diversità ricca e crescente. Se oggi noi siamo qui è perché siamo testimoni viventi tutti noi di questa diversità che si estende anche in più campi culturali ed artistici. E se io scrivo per il teatro è perché voglio cambiare questa narrazione, voglio decostruire gli stereotipi e allo stesso tempo creare dei ruoli ricchi e complessi per gli attori di questa maggioranza globale. Ruoli in cui emergono le nostre contraddizioni umane e non solo ruoli tendenziosi e pieno di retorica, che spesso, nell'intento di combattere problemi come il razzismo o la discriminazione, finiscono per rappresentarci come figure totalmente piatte, quali il migrante pieno di buoni sentimenti o il bravo lavoratore. Ecco, io rifiuto questo appiattimento e rivendico per i miei personaggi e forse implicitamente anche per me il diritto di essere contraddittori, di sbagliare, di avere pregi e difetti come ogni altro essere umano. Infine il terzo motivo che mi spinge a scrivere per il teatro riguarda il pubblico. Oggi il pubblico di un teatro è sostanzialmente composto da italiani bianchi, soprattutto persone di una certa età e di un certo sociale. Quando vado a teatro, infatti, mi sento spesso sola e stento a ritrovare quella diversità sociale di cui parlavo prima. I motivi sono tanti e hanno a che fare con l'economia, perché uno spettacolo teatrale è spesso costoso, ma hanno a che fare anche con il tipo di spettacolo, che non riesce ad essere accattivante per i giovani, perché spesso non parla della nostra contemporaneità, non parla dei nostri problemi e dei loro problemi. Il mio obiettivo, questo molto ambizioso, è quello di portare in scena spettacoli in cui i giovani, che essi siano italiani o meno, bianchi o variopinti, possono sentirsi coinvolti, possono vedersi finalmente rappresentati anche in scena. Ecco cosa sogno per il teatro di oggi e del domani. Ultima nota prima di chiudere, anche se vi sentite un piccolo pesce in un grande oceano, anche se il vostro corpo pensa di non farcela, voi non datevi mai dei limiti, ma provate, nonostante i vostri limiti, nonostante la vostra età, le vostre paure di esporvi e di sbagliare, perché solo così potete realizzare l'impensabile, solo così potrete dare vita ai vostri sogni. Max, non deludervi, il tuo sogno? Fammi un piacere. Sì, volentieri. No, 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 stammi a sentire, senti, posso essere sincero con te? Certo. Ok, sarò sincera. Tu non mi piaci. No, 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 aspetta, aspetta, lasciami finire. Tu sei un cane rabbioso, sei geloso, sei prepotente, sei un'attaccabrighe. Tu non mi piaci, va bene? Però adesso, adesso i fornelli sono bassi. Siamo in pace, siamo in tranquillità. Ecco, io ho imparato a conoscerti in questi tre anni e continui a rimanere un cane rabbioso. Però mi piacerebbe che tu lo fossi un po' meno. Ecco, ecco il mio sogno. Io sogno un amico. Sì. 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 Sì.